buongiorno a tutti ragazzi amici del canale youtube e a tutti esperti di campani come me oggi ci troviamo chiesto di san nicolò a cesena di laziano che mi ha funzionato di quattro campani che adesso ascoltiamo strappi e mezzogiorno il frantevo a sede stra campanone con mezz'ora andate mezz'ora e suonarlo sarà diffuminato perché non funziona più e quindi al pezzo volto campanare o di otto ascolto a tutti ciao grazie a tutti 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 grazie a tutti